Massimo Pugnitopo Abbiamo visto qualche punto lungo e alla fine sempre a favore di Ponte Felcino Questo è il carattere e la testardaggine delle ragazze che sta allenando Posso dire solo bene di questo gruppo Ragazze splendide in palestra che lavorano Se i risultati sono questi penso che devi essere molto soddisfatti Oggi anche un bel pubblico al seguito in Alta Valle del Tevere Come ha visto Città di Castello? Città di Castello è rimasto sorpreso dal nostro gioco Anche perché l'onora è riuscita a distribuire veramente bene Per cui noi abbiamo fatto una gran partita Poi è chiaro che la parere è stata bella e per fare una bella parere ci vogliono sempre due ottime squadre Campionato lunghissimo, con che aspettative? A noi le aspettative di arrivare più in alto possibile Poi dopo non abbiamo sogni nel cassetto Viviamo alla giornata e vediamo quello che possiamo fare Una squadra giovane per cui dobbiamo lavorare E questa è la cosa importante Palla Andrea Ion di Città di Castello Dopo Massimo Pugnitopo Che ha detto sinceramente di aver visto veramente un bel Ponte Felcino Sentiamo Andrea Maddau Diaz come ha visto la Gerardi Cartoedit Una squadra che oggi non eravamo proprio al 100% Su situazioni un pochettino più importanti Nel senso che abbiamo lasciato un pochettino sulla difesa Alcune situazioni che potevamo tranquillamente riuscire a giocare un pochino meglio Abbiamo giocato contro una squadra comunque ben messa in campo come sapevamo E che però ha giocato veramente un'ottima partita Quindi anche per noi non è stato facilissimo a contrastare sempre tutto Siamo soltanto alla seconda giornata Sicuramente situazioni importanti da vedere e correggere e migliorare Tanti punti lunghi, super combattuti Alla fine quasi sempre tutti andati a Ponte Felcino Sì, loro hanno difeso tanto Le volte che siamo riusciti a contrastare anche noi sulla difesa Non siamo poi riusciti comunque a chiudere il contraattacco Loro hanno avuto più mente fredda Nel senso che hanno variato un pochettino più i colpi rispetto ai nostri E alla fine sono riusciti sempre a chiuderle loro il punto A differenza dalla prima giornata siamo soltanto alla seconda Dove c'era stata una netta vittoria Oggi la differenza oltre che all'avversario L'ha fatta un po' anche il gioco Qualche mancanza della tua squadra? Ma diciamo che molto è stato l'avversario Nel senso che il nostro gioco sinceramente non mi è dispiaciuto Nel senso che come l'hanno detto altre volte C'è tanto ancora da fare perché come hai detto te prima è la seconda giornata Abbiamo incontrato una delle squadre che come noi pretendono arrivare nei play-off Quindi è difficile poi giocare con delle squadre del genere Se non riusciamo su alcune situazioni caliamo un pochettino di attenzione e di concentrazione Però sappiamo dover lavorare e sinceramente alcune situazioni non mi sono dispiaciute Bisogna solamente essere un pochettino più attente su alcune situazioni E lavorare sul discorso di difesa e le battute che forse ci hanno un pochettino messo in difficoltà loro Più sulla battuta che noi rispetto alla loro ricezione Più sulla battuta che forse ci hanno un pochettino